Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Allora noi cominciamo oggi la nostra edizione direttamente con la diretta. Abbiamo la nostra inviata Raffaella Di Rosa che si trova in provincia di Belluno a Mass perché come sapete la situazione del maltempo è davvero drammatica. C'è tutt'altro che è finito il maltempo e la situazione è difficilissima soprattutto nell'arco alpino e appunto nella zona di Belluno ci sono interi paesi isolati a causa di franne che bloccano le strade. Raffaella, dacci le ultime notizie. Sì, buongiorno Adriana. Come dicevi tu, qui sono ancora in piena emergenza. È piovuto tra l'altro per tutta la mattina, ha smesso adesso una piccola tregua ma davvero è stata un'altra mattinata difficile. Io mi trovo, lo dicevi a Mass, in provincia di Belluno alle mie spalle c'è una palazzina, per fortuna era una palazzina disabitata che è crollata, il fiume si è ingrossato appunto per le piogge ed è un'immagine simbolica, emblematica di questa devastazione ma naturalmente non è l'unica. Ci colleghiamo da qui perché è davvero uno dei pochi posti dove c'è un segnale che ci consente di fare questa diretta e di raccontarvi quello che è successo, quello che abbiamo visto, anche cercato di documentare questa mattina perché proprio da qui si parte per la valle della Gordino, sono le valli della Gordino, del Comelico, la valle di San Lucano, sono delle valli, delle dolomiti bellissime affollate di turisti sia d'inverno che d'estate che adesso hanno completamente cambiato il loro aspetto morfologico, ce lo raccontano tutti. Qui è davvero una devastazione grandissima. percorrendo in auto dove si poteva perché ancora poco fa c'è stata una frana che ha invaso la statale 203 e quindi difficoltà anche negli spostamenti. L'immagine più impressionante è quella di queste enormi distese di alberi, le foreste con questi abeti secolari che sono venuti giù davvero come birilli in questi quattro giorni di pioggia e di vento fortissimo. Abbiamo raggiunto a fatica un comune, forse uno di quelli che è più in difficoltà, Rocca Pretoria ed è un comune di 1.100 abitanti a più o meno oltre 1.000 metri di altezza. Perché dico che è uno di quelli più in difficoltà ma non è l'unico? Perché è isolato. Di fatto lì, ce lo diceva poco fa il prefetto, ci sono ancora 11.000 utenze disabilitate, non arriva l'energia elettrica e tra l'altro stamattina avrebbe dovuto volare l'elicottero dell'esercito, portare i generatori in quei paesi isolati ma con le piogge non è stato possibile. C'è un problema di acqua, l'acqua non è potabile, infatti lì c'era l'autobotte per le emergenze e però naturalmente non si può andare avanti così, il sindaco ce l'ha detto, abbiamo bisogno di aiuti, abbiamo bisogno anche di soldi per riportare la normalità in un territorio che è completamente devastato. Domani qui verrà il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, a visitare questi territori, il governatore Zari ha detto che è davvero un'emergenza nazionale, quella del Veneto, ha chiesto al Premier Conte la sospensione del pagamento delle utenze, delle bollette, dei mutui, insomma un aiuto per questi territori che sono davvero devastati. Questa è la provincia di Belluno, naturalmente non è solo qui, i danni non sono solo qui, la devastazione non è solo in questi territori ma anche in Trentino, nel Friuli, un nord davvero flagellato dal maltempo, allora forse possiamo fare il punto e ricostruire la situazione nel servizio di Giulia Lauletta. Strade non percorribili, comuni isolati, perfino l'acqua non è potabile nella provincia di Belluno, la più colpita da questa incredibile ondata di maltempo, insieme a quella di Treviso. Siamo in ginocchio, ammette il governatore del Veneto, Luca Zaia. Una piovosità eccezionale, dice, superiore a quella delle alluvioni del 2010 e del 1966, una miliardata ai danni e la stima del governatore. Le interruzioni sulle strade del bellunese sono ancora 27 nuove frane, oggi nei paesi si combatte l'acqua, entrata ovunque, case, negozi, campi, aziende. La piena del piave e l'esondazione dei torrenti hanno travolto tutto. In montagna, dopo giorni di pioggia, il terreno ha ceduto e poi il vento, fortissimo, migliaia di alberi caduti sopra cortina. Cambiando drasticamente il profilo degli altipiani, ci vorranno più di 100 anni per ripristinare questi boschi. Domani il direttore della protezione civile, Angelo Borrelli, farà un sopralluogo in queste zone. Qui non solo le strade sono impraticabili, ma anche gli elicotteri non riescono a sorvolare a causa della pioggia e il gasolio inizia a scarseggiare negli ospedali. La prefettura ha detto di bollire l'acqua almeno 5 minuti prima di usarla per fini alimentari, ma senza luce sono migliaia di persone e le utenze scollegate sono 1619. Anche Trentino e la Carnia in Friuli stanno contando i danni. Il lago di Garda è irriconoscibile. La piena dell'Adige per salvare le città è stata dirottata nel lago, tanto amato da residenti turisti, trasformandolo in una palude marrone. Il vice ministro dell'economia, Laura Castelli, promette aiuto alle famiglie delle zone alluvionate, sollevandoli dagli obblighi fiscali, in Veneto ma anche in Liguria. Qui oggi il governatore Toti, dopo un sopralluogo a Portofino, ha parlato di centinaia di milioni di euro di danni. In tutta Italia gli interventi dei vigili del fuoco oggi sono stati 14 mila. Toscana ed Emilia Romagna sono alle prese con gli allagamenti. Il maltempo continua a flagellare la zona di Napoli, strade allagate e automobilisti soccorsi a Ischia, anche oggi. In Sicilia, colpita la zona dell'Agrigentino, nelle strade di Sciacca, quasi un metro di acqua. Allora, si diceva nel servizio ci vorranno anni per rivedere, ricostruire questo territorio devastato, ce lo diceva anche oggi il sindaco di Roccapietro, appunto dove siamo stati. quello che vi raccontavo prima è che è davvero impressionante, questa strage dei boschi si stimano danni, è naturalmente presto per fare la stima dei danni complessivi, ma per quanto riguarda appunto il territorio, i boschi si stimano danni per oltre 300 milioni di euro. È un problema, questi sono luoghi di turismo, quindi naturalmente quello sta per cominciare la stagione invernale e per il turismo, questo è davvero un grandissimo problema. Siamo stati in uno degli alberghi, ma sono più o meno tutti messi allo stesso modo, avrebbe dovuto aprire, iniziare quindi la stagione l'8 dicembre. Naturalmente questo non potrà probabilmente avvenire, noi ci rimboccheremo le mani che ci ha detto il gestore dell'hotel, siamo entrati e naturalmente è stato invaso dall'acqua che ora è fango, mobili completamente devastati, insomma la furia dei fiumi che sono usciti dagli argini. Continuamente vediamo passare camion dei vigili del fuoco, c'è la protezione civile, ci sono anche tantissimi volontari che sono arrivati in questi comuni così isolati per fornire un aiuto alle popolazioni colpite appunto da questa devastazione. Non vedevamo una cosa così, una situazione così da 50 anni dall'alluvione del 66, ci dicono tutti qui, ce lo diceva anche il comandante dei vigili del fuoco questa mattina. insomma ancora tanti interventi, tetti scoperchiati, ci sono i detriti da togliere dagli argini dei fiumi e insomma anche da ripristinare tutta la situazione della viabilità che è ancora molto molto difficile. Le frane, prima vi ho raccontato di una frana che ha impedito il passaggio, naturalmente non è l'unica perché ci sono state tante piccole frane e tanti smottamenti che rendono appunto la situazione difficile. Adriana, a te la linea se non hai altre domande. Grazie, grazie molto Raffaella per questo tuo racconto. Dunque una situazione davvero drammatica, lo avete visto anche dalle immagini che dovrà necessariamente essere affrontata dal governo che proprio in questi giorni ha varato, è stato passato dalla Camera il decreto emergenze con il corposo capitolo Genova e terremoto nel centro Italia. Ma c'è poi anche la legge di bilancio che lunedì prossimo arriverà alla Camera dove sarà discussa dai parlamentari una legge estremamente difesa dal governo e di poco sono le ultime dichiarazioni del Vice Premio e nonché Ministro del Lavoro Luigi Di Maio su due passaggi cruciali e molto importanti e fonte di polemica ovvero il reddito di cittadinanza e le pensioni a quota 100. Cominciamo da qui. Assicura Di Maio in tarda mattinata, reddito di cittadinanza e pensioni sono nella legge di bilancio, chi dice il contrario dice bugie. A Natale o subito dopo si farà un decreto per questi due provvedimenti perché in manovra ci sono i soldi, c'è la ciccia. Parole che arrivano a 24 ore dalla lettera di Mattarella al Premier Conte in cui si auspica attenzione per il risparmio degli italiani e collaborazione con le istituzioni europee. Lettera alla quale Palazzo Chigi risponde che sì, con l'Europa esiste un dialogo costante e proficuo dal Quirinale un lavoro ai fianchi del governo. Ma intanto il vice premier Salvini, il mio rapporto con lui è solidissimo, assicura Di Maio. Salvini accelera e lancia la sfida della piazza, una manifestazione anti-euro per l'8 dicembre a Roma, una vera e propria prova di forza contro l'Europa e a difesa della manovra. Manovra che trova oggi lo sbarramento deciso dell'opposizione da destra a sinistra. Da Forza Italia la capogruppa alla Camera, Maria Stella Gelmini, parla di caos totale sulla legge di bilancio, con un testo giunto in Parlamento pieno zeppo di errori e con i conti che non tornano, mentre c'è chi alza i toni e invoca la piazza contro Bruxelles. Ancora da Forza Italia l'iniziativa di Mattarella trova un plauso nelle parole di Antonio Tajani. Problema reale, posizione di buonsenso. Basta liti o l'Italia rischia l'isolamento. Ma anche da sinistra la musica non cambia, con Roberto Speranza, LU, che parla di una manovra che farà solo male al paese e con l'unico pensiero di Salvini e Di Maio, rivolto alle elezioni europee, mentre sui due provvedimenti principali è ancora buio pesto. Ma pesanti accuse arrivano anche dal PD, col vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, che chiede al governo di fermarsi. Non è l'Europa, ma è questo esecutivo che ci sta portando ai sacrifici. E mentre il numero due della Lega, il sottosegretario Giorgetti, confessa che abbiamo rischiato una crisi di governo, ci sono stati tra gli alleati momenti di tensione brutta, da mercoledì la manovra sarà in aula. Vero banco di prova per il governo, dopo l'appello di Mattarella, di ogni buona intenzione annunciata. Ecco, le perplessità di Giorgetti, lo avete appena visto. Il sottosegretario e la presidenza del Consiglio sono di nuovo ribadite in merito al reddito di cittadinanza. Giorgetti dice, ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro bene, altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso. Dunque la manovra, lo abbiamo sentito, lunedì sarà ufficialmente in Parlamento per essere discussa dai deputati prima di andare al vaglio di Bruxelles, che dovrà dare il suo assenso o meno e a meno di grandi stravolgimenti. Il parere di Bruxelles sarà certamente negativo e si potrà forse aprire anche una procedura di infrazione. Comunque alcuni passaggi della manovra, che è suscettibile in sede parlamentare, di modifiche sono già note. Allora andiamo a rivederli. Il fine settimana è solo di attesa. La legge di bilancio è depositata alla Camera e nessun ritocco al testo è più possibile per il momento, ma dalla prossima settimana la manovra comincerà l'iter parlamentare. E fatta salva l'impostazione sui punti cruciali del programma di governo, guardando in dettaglio le novità, anche stavolta si conferma il metodo di sempre, un bonus da una parte, un rincaro dall'altra. A cominciare da quello delle sigarette, con l'anno nuovo, aumenteranno dei 10 centesimi al pacchetto e saliranno anche le tasse sulle slot machine, che dovrebbero portare in cassa circa 250 milioni di euro in più. Non è certo invece, ma c'è il rischio concreto, di tasse locali più salate, visto che la manovra non ha rinnovato il blocco degli aumenti di tributi e addizionali. In sostanza, regioni e comuni, che non l'avevano già fatto in precedenza, potranno aumentare le aliquote fino ai livelli massimi. Il 3,3% per l'addizionale IRPEF regionale, lo 0,8% per quella comunale, con l'eccezione di Roma, dove è già allo 0,9%, e il 10,6% per mille per Tasi e IMU sulle seconde case. Quanto ai tagli di spesa, il Governo punta a far calare direttamente il costo dei ministeri di 435 milioni, da aggiungersi ad 800, 22 milioni di risparmi in conto capitale, fondi che andranno a finanziare il programma di investimenti che può già contare su 790 milioni. Partirà poi il nuovo bonus eccellenze, per assumere con lo sconto di 8 mila euro di contributi in meno, fino a 6 mila laureati, con 110 e lode sotto i 30 anni, e ricercatori che hanno conseguito il dottorato prima di 34 anni. Sempre in tema di formazione, per far fronte alla carenza di medici, a partire dal 2019, l'aumento dei fondi in manovra permetterà l'attivazione di 900 contratti di specializzazione in più. Tutto questo al termine di una settimana che non è stata di certo incoraggiante sul fronte economico con l'Istat, che nel corso dei giorni ha continuato a fornirci dei dati negativi, stime sulla mancata crescita nei prossimi mesi sul prodotto interno lord. Poi c'è stata anche la disoccupazione in ulteriore aumento, secondo i dati dell'Istituto Statistico, oltre il 10%, quella globale, oltre il 31%, quella già davvero drammatica, giovanile. Dunque sono numeri che i mercati guardano con grandissima attenzione, durante tutta la settimana li abbiamo osservati, oggi le cose vanno un po' meglio, lo spread scende leggermente, anche se rimane sempre attorno a quei 300 punti che costituiscono un grave problema. Rischi per ora contenuti sul fronte deficit, se i fondamentali dell'economia italiana resteranno stabili, ma nessuna illusione sulla crescita del PIL il prossimo anno. Così l'agenzia di rating canadese di BRS si pronuncia oggi sulla situazione economica del nostro paese. Non ci si aspetta nessun miglioramento e anzi segnali indicano rischi a ribasso per i prossimi trimestri. Il tema principale, scrivono gli esperti, è se il governo riuscirà a formulare e realizzare un'agenda preoccupazione che sostenga, piuttosto che invertire, la performance di crescita dell'Italia. E anche oggi in realtà dagli indicatori economici non arrivano segnali incoraggianti. L'indice PMI, che valuta, diciamo così, lo stato di salute delle imprese attraverso interviste ai direttori degli acquisti di circa 400 aziende manifatturiere, è in discesa sotto i 50 punti, considerati il discrimine tra segno positivo e negativo, per la prima volta da agosto 2016, a 49,2 e a livello più basso da dicembre 2014. Il rallentamento in realtà coinvolge un po' tutta l'eurozona che resta comunque in campo positivo, ma non è così accentuato come da noi. Ma dai mercati oggi arrivano segnali di ottimismo, spread che scende decisamente sotto quota 300 e piazza affari che guida la carica delle borse europee, galvanizzate come le asiatiche dalle notizie in arrivo da Washington, che parlano di un colloquio telefonico molto positivo tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, di un accordo sui dazi che sarebbe in via di preparazione potrebbe essere siglato addirittura a breve, con un incontro tra Trump e Xi previsto al G20 di fine novembre. Notizie che allontanano lo spettro di una guerra commerciale che a piazza affari mettono le ali soprattutto ai titoli del lusso, o comunque legati all'export verso Oriente, e a segnare una giornata decisamente tonica per l'indice milanese e anche il settore bancario. Grazie alle indiscrezioni in positivo sui risultati degli stress test su quattro istituti di peso, Unicredit, intesa Banco BPM e UBI, che l'autorità bancaria europea diffonderà nel pomeriggio a mercati chiusi. Un tema molto scottante all'interno della compagine di governo è quello della prescrizione che vede Movimento 5 Stelle e lega protagonisti di un braccio di ferro. Il disegno di legge sull'anticorruzione è del resto nel cuore dei pentastellati, ma alcuni punti è visto come troppo estremo dagli alleati leghisti che con alcuni emendamenti puntano a stralciare dei passaggi. Il ricompattamento del Movimento 5 Stelle passa anche dalla riforma sull'anticorruzione, in particolare dall'emendamento presentato in corsa dai grillini, che prevede la sospensione dei reati alla sentenza di primo grado. Una proposta che rischia di inasprire i rapporti con la Lega, che ha già fatto sapere che non voterà la riforma sulla prescrizione, sebbene faccia parte del contratto di governo perché l'emendamento non è stato condiviso. È un'evidente forzatura, così la proposta diventa anticostituzionale, spiegano dal Carroccio, che insieme a Forza Italia ha tentato di rinviare in vano l'esame della proposta, che arriverà in aula a Montecitorio il prossimo lunedì 12 novembre. La mossa dei 5 Stelle va letta come un tentativo di riequilibrare le concessioni elargite alla Lega e di smorzare le tensioni con i ribelli dell'ala ortodossa, tanto più che quella sulla prescrizione è una battaglia storica del movimento. Luigi Di Maio e il guardasigili Alfonso Bonafede non vogliono cedere, sono convinti che si possa trovare un'intesa con la Lega in un clima sereno, anche se il Carroccio ha già bollato il DDL anticorruzione come troppo aggressivo e forcaiolo, tanto che ha presentato circa 300 emendamenti al testo, ora all'esame delle commissioni giustizie e affari costituzionali della Camera. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio sarebbe stato inserito proprio per blindare il testo e proteggerlo dalle modifiche volute dalla Lega e dal centro-destra. Contro la proposta di Bonafede, oltre a Forza Italia che parla di cortocircuito giustizialista, si scaglia anche il PD con il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, che critica la proposta perché non ha nessun fondamento giuridico e punta il dito contro il ministro della Giustizia e Bonafede in cerca solo di uno spot elettorale. Il Movimento 5 Stelle pensa che siano tutti colpevoli, tranne loro ovviamente, spiega Rosato, che aggiunge, il tema è delicatissimo perché la prescrizione per alcuni reati si è rivelata un elemento che aiuta i colpevoli ad evitare i processi, per questo noi l'abbiamo allungata di molto per i reati gravi, altra cosa è dire che per qualsiasi tipo di reato il processo resta lì. Contro l'emendamento anche l'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati e gli avvocati penalisti che parlano di intervento raccapricciante. Il primo scoglio sarà superato lunedì prossimo quando le commissioni dovranno decidere sull'ammissibilità o meno degli emendamenti. Segnari contraddittori esistono anche all'interno del Movimento 5 Stelle, sul MUOS per esempio il mega radar americano satellitare che durante la campagna elettorale tanti protagonisti del Movimento in Sicilia avrebbero voluto smantellare. L'opera è contestata a livello locale ma appare indispensabile per gli Stati Uniti d'America. La Ministra della Difesa Elisabetta Trenta è a favore. Il caso Ilva, il TAP, il TAV ma non solo. Un'altra battaglia si profila all'orizzonte per il Movimento 5 Stelle e rischia di aprire nuove tensioni e imbarazzi nel governo. Si tratta del MUOS, il sistema di comunicazioni satellitari ad uso militare gestito dal Dipartimento di Stato americano con base a Niscemi nel Nisseno. Al centro di un lungo contenzioso tratti visti locali, regione siciliana ed esecutivo, passato negli anni attraverso la giustizia penale e quella amministrativa, legato all'impatto ambientale e al livello di emissioni elettromagnetiche degli impianti che si trovano all'interno di un'area protetta. Lo smantelleremo, ha detto nei giorni scorsi il leader regionale dei 5 Stelle, Giampiero Trizzino, che ha aggiunto Di Maio lo dirà presto e il vicepremier dal canto suo ha preannunciato imminenti novità. Dichiarazioni che hanno provocato una immediata precisazione del Ministero della Difesa. Siamo a lavoro sul dossier, ma l'unica voce sul tema sarà quella del governo, qualsiasi altra esternazione o posizione assunta da esponenti non appartenenti all'esecutivo varrà solo a titolo personale. Una brusca frenata perché la questione è delicata e una nuova grana potrebbe essere dietro l'angolo. Sul MUOS è atteso il prossimo 14 novembre un ulteriore pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa, dopo l'ultimo ricorso presentato dagli attivisti e dal Comune di Niscemi, che considerano abusiva l'installazione. Lo stesso Consiglio, massimo organo di giustizia amministrativa, nel 2016 aveva escluso rischi per la salute connessi all'accensione delle grandi parabole utilizzate per coordinare forze aeree, navali e terrestri in Medio Oriente e nel Mediterraneo. La base è in funzione grazie ad un accordo stipulato dagli Stati Uniti con il governo italiano nel 2006. Il governo ora valuta se modificare o rinunciare ad una memoria difensiva presentata a suo tempo dall'Avvocatura dello Stato per contrastare le battaglie dei no MUOS, da sempre sostenute dal Movimento 5 Stelle. Ben più difficile però pensare ad un atto politico che porti allo smantellamento della base. Il MUOS, come del resto l'acquisto dei caccia F-35, sono questioni assolutamente strategiche per gli Stati Uniti. L'alleato forte che sostiene le politiche diplomatiche italiane nel Mediterraneo. Tanto più a dieci giorni dalla conferenza internazionale di Palermo in cui l'Italia, in una fase di difficili rapporti con l'Europa e con la Francia, punta a rivendicare un ruolo centrale nella stabilizzazione della Libia. E tra pochissimi giorni, martedì prossimo, l'America vota per le elezioni di metà mandato. Un momento cruciale per l'amministrazione americana dal sapore, questa volta più che mai, di referendum nei confronti del Presidente. Ecco allora che Donald Trump cavalca quei temi che a lui sono più cari, che lo hanno portato a vincere le elezioni due anni fa, ovvero la sicurezza, la immigrazione e anche le armi. Possono anche sparare, speriamo che nulla accada ma siamo pronti. Donald Trump minaccia di arrivare a schierare fino a 15.000 soldati al confine con il Messico pur di fermare i migranti partiti dall'America centrale che vogliono entrare nel paese. Il Presidente assicura che non riusciranno ad entrare legalmente negli Stati Uniti anche a costo di ordinare, di premere i grilletti, spero di no, sottolinea, ma sono soldati. Trump ha promesso che i migranti saranno trattenuti in grandi tendopoli, allestiti alla frontiera con il Messico, li terremo all'ino, li faremo entrare nel nostro paese. L'immigrazione illegale, ha spiegato, influisce negativamente sulla vita di tutti gli americani, offende i lavoratori, è un fardello per chi paga le tasse, minaccia l'ordine pubblico e pesa su scuole, ospedali e comunità. Che la Casa Bianca non abbia intenzione di recedere dai propositi annunciati, lo confermano anche il numero dei militari impegnati a fronteggiare la carovana di migranti. Dagli 800 volontari della Guardia Civile, inizialmente fatti schierare alla frontiera, si è passati a circa 3.200 soldati per arrivare ai 15.000 di queste ultime ore. Più di quanti gli Stati Uniti hanno schierato nei teatri di guerra dell'Iraq o dell'Afghanistan, li hanno fatto notare. Da settimane del resto la lotta all'immigrazione è il principale l'argomento che sta caratterizzando la campagna elettorale dei repubblicani che puntano a vincere le elezioni di metà mandato del prossimo 6 novembre. Le donne non vogliono i migranti della carovana in America, vogliono sicurezza, vogliono stare sicure, i democratici vogliono confini aperti, ma noi non lo permetteremo, ha detto Trump intervenendo in Missuri in uno dei comizi a sostegno del candidato repubblicano. Tutto questo dopo aver annunciato una stretta sul diritto di asilo. Trump vuole infatti negarlo in modo automatico ai migranti che proveranno ad entrare illegalmente negli Stati Uniti. Se la misura si applicherà solo a chi arriverà con la carovana o a tutti i migranti in generale, però non è ancora chiaro. E per osservare, per vedere quanto accade in America, per vedere se ci sarà o meno una spaccatura del Congresso e un'avanzata del Partito Democratico. A Washington la nostra rete, la 7, seguirà l'avvenimento con una lunga maratona del direttore Enrico Mentana. Martedì a partire dalla mezzanotte, Mentana avrà numerosi ospiti in studio e poi naturalmente i contributi dei nostri inviati sul posto. Questo è quanto accadrà martedì al di là dell'Atlantico. Ora vediamo invece la Gran Bretagna alle prese con la Brexit. Sono mesi davvero difficili per la Premier Theresa May. È stata anche smentita la notizia trapelata nei giorni scorsi da appunto fonti giornalistiche sull'arrivo di un accordo di tipo finanziario tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. Lo ha smentito questa mattina il negoziatore capo di Bruxelles che è Michel Barnier. Dice ancora niente su questo punto è stato deciso. Tutto è aperto. Si tratta di una intesa che permetterebbe l'accesso britannico al mercato europeo. Un accordo sulla Brexit potrebbe arrivare in poche settimane. A dirlo è il ministro degli esteri britannico Jeremy Hunt, secondo il quale le due questioni più spinose, ossia il libero scambio e i confini tra Irlanda e Irlanda del Nord con uno sforzo di tutti possono essere risolte. La data del 21 novembre circolata nei giorni scorsi potrebbe dunque essere davvero quella buona. Anche se le indiscrezioni su un possibile accordo complessivo di divorzio con l'Unione Europea relativamente vicino, contenute in una lettera trapelata dall'ufficio del ministro inglese per la Brexit, Dominic Raab, sono state poi ridimensionate dal suo stesso di castero ad un auspicio. Intanto il capo negoziatore dell'Unione Europea, Michel Barnier, ha smentito la notizia diffusa dal Times circa un accordo sui servizi finanziari che permetterebbero a Londra di mantenere in gran parte l'accesso al mercato europeo. Solo ingannevoli articoli di stampa, secondo Barnier, che aggiunge l'UE può concedere o ritirare l'equivalenza di alcuni servizi finanziari autonomamente alla stregua di ciò che accade con altri paesi terzi. L'UE è pronta a impegnarsi per un dialogo nel rispetto dell'autonomia assoluta di entrambe le parti. Citando fonti governative inglesi, il Times ha scritto invece che l'Unione Europea sarebbe disposta a garantire l'accesso ai mercati europei alle compagnie britanniche, almeno fino a quando la regolamentazione finanziaria del Regno Unito rimarrà in linea con quella europea. Una soluzione che, seppure non confermata ufficialmente, ha comunque spinto la sterlina ieri verso l'alto, portando un certo sollievo a Londra come possibile antidoto alle incertezze del dopo Brexit. Il Financial Times ha analizzato le agevolazioni fiscali offerte nei paesi europei agli esuli della City, prendendo a riferimento un banchiere con uno stipendio annuo di un milione di sterline. Il quotidiano britannico ha calcolato che in Italia ne pagherebbe 227 mila tra tasse e previdenza circa la metà di quanto versa oggi in Gran Bretagna e qualcosa in meno delle 268 mila di cui si accontenterebbe la Francia. Insomma, l'Italia potrebbe diventare una sorta di paradiso fiscale per i ricchi banchieri che lasceranno Londra. Negli ultimi due mesi sono quattro gli incendi dolosi nella cosiddetta terra dei fuochi, in Campania, in provincia di Caserta. La criminalità organizzata torna a allungare le mani sul business dei difiuti. Ieri sera c'è stato l'ultimo rogo, per questo il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa è andato lì e ha detto che lo Stato non ha nessuna intenzione di ritornare nell'emergenza che abbiamo vissuto venti e più anni fa. Non ci faremo mettere in ginocchio da qualche criminale. Vediamo il nostro servizio. Torna l'emergenza nella terra dei fuochi e il Ministro Costa vola in provincia di Caserta e annuncia che manderemo una task force di esercito e carabinieri. Il Vice Premier Di Maio annuncia che presto faremo un consiglio dei ministri nella terra dei fuochi. L'ultimo attentato ieri sera, una settimana dall'incendio di un deposito sotto sequestro di rifiuti pericolosi a Marcianise. Ieri sera ne è scoppiato un altro, sempre in terra dei fuochi, a Santa Maria Capovetere. Sono passate poco più di 48 ore dalla sua ultima visita e il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa è tornato stamattina nel Casertano per un sopralluogo allo stir di Santa Maria Capovetere, dato alle fiamme come mostrano queste immagini diffuse dai social. Un ruogo che ha mandato in fumo l'impianto di lavorazione dei rifiuti stoccati e destinati al termovalorizzatore. A lavoro tutta la notte i vigili del fuoco per domare le fiamme e poi dall'alba la pioggia ha contribuito a spegnere l'incendio. Siamo sotto attacco, ha detto il Ministro Costa sulla sua pagina Facebook, con la foto del ruogo di ieri sera. Un altro incendio sempre più grande, sempre nello stesso territorio e sempre in un impianto di stoccaggio di rifiuti, ha sottolineato. Poi il sopralluogo è una riunione in queste ore in prefettura a Caserta per stabilire il da farsi. Ma chi appicca questi incendi e perché? Costa parla di una precisa strategia criminale in atto da parte dei criminali che incendiano per costringerci ad una nuova emergenza. Vogliono inginocchiare lo Stato, dice. La procura di Santa Maria Capovetere ha aperto un'inchiesta dai primi rilievi, non ci sono dubbi sull'origine dolosa dell'incendio. L'obiettivo, secondo gli inquirenti, è quello di far saltare la catena del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti per fare spazio a nuovi impianti. Il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi, parla di disastro ambientale e attacca il governo. I nuovi parlamentari a me sembrano che girano a vuoto tra i tavoli come tante marionette. Ci fermiamo ora per qualche minuto, ma al ritorno vedremo se ci sono degli aggiornamenti anche le notizie sportive. A tra poco. Allora, bentornati in studio, proseguiamo con lo sport, ma prima di chiudere ci ricollegheremo anche con Belluno e la nostra inviata per le ultime notizie sul fronte del maltempo. Vi dicevo dunque, il campionato di calcio sarà Napoli-Empoli ad aprire stasera il programma dell'undicesima giornata che si completerà poi nel fine settimana. La serata riempi stadio del San Paolo sarà quella di martedì, quando andrà in scena il Gran Gala col Paris Saint-Germain dell'ex Cavani e di Gigi Buffon. Nel frattempo stasera, in un'atmosfera sicuramente diversa e con spalti meno popolati, il Napoli affronterà l'Empoli nel primo anticipo dell'undicesima di campionato. Testa la Champions ma gambe sulla Serie A, così Ancelotti prepara un massiccio turnover con giocatori abituati ormai a lottare per una maglia da titolare ogni tre giorni. Quindi chance per chi gioca meno, Maximovic al posto di Albiol, di Avarà per Amsic e la coppia Milik-Mertens davanti con Insigne che riposerebbe per la seconda volta quest'anno dopo lo stop muscolare con l'Udinese. Per vincere l'abbondanza di interpreti diventa allora un'arma in più per gestire le varie competizioni nel migliore dei modi e ci vuole anche un allenatore fortunato, come ricorda schiettamente Ancelotti. Napoleone diceva che i generali li preferiva avere fortunati che bravi, probabilmente ci ha avuto culo. La Juventus festeggerà invece domani sul campo i suoi 121 anni di storia. All'orizzonte ci sono il Cagliari e il Manchester United, partita quest'ultima che potrebbe assicurare il passaggio agli ottavi ai bianconeri in Champions League, mentre in campionato è vietato lasciare per strada altri punti dopo il pari col Genoa. Contro i sardi spazio a Douglas Costa, finora ai margini causa infortunio e lunga squalifica e a Quadrado che faranno parte del reparto offensivo insieme a Cristiano Ronaldo, mentre in difesa non ci sarà Chiellini, a riposo in vista dello United. Prove generali anche a San Siro dove in attesa della super sfida con il Barcellona di Messi, domani alle 15 l'Inter affronterà il Genoa. Anche qui attenzione nel gestire le energie. Spalletti manderà Icardi in panchina dando una chance all'autaro. Tra i convocati c'è anche Nainggolan, rientro dall'infortunio che potrebbe essere utilizzato part time in vista del Barcellona. Più dura la trasferta della Roma a Firenze, anche se i giallorossi avranno un giorno in più di riposo prima di volare a Mosca per affrontare il CSKA. Di Francesco ha provato Florenzi in attacco ma non ha ancora sciolto la riserva sulle condizioni di De Rossi. Poi c'è anche il calcio internazionale. In Argentina c'è grande attesa per il superclassico che si disputerà a Buenos Aires il 10 e il 24 di questo mese tra Boca Junior e River Plate. In palio c'è la conquista della Coppa Libertadores, l'equivalente della Champions League in chiave sudamericana. Si tratta di un doppio confronto da risvolti tecnici ed agonistici di grande richiamo ma anche una sfida ad altissimo rischio sul piano dell'ordine pubblico. In Argentina l'hanno già definita l'apocalisse o più semplicemente la resa dei conti finale. Per la prima volta nella storia la Coppa Libertadores, equivalente della Champions League in chiave sudamericana, nata nel lontano 1960, metterà di fronte le due rivali storiche del calcio argentino, Boca Juniors e River Plate. Una sfida che a partire dal Presidente della Repubblica Maurizio Magri, in passato alla guida del Boca, avrebbero volentieri evitato. Due club centenari che dividono passioni e rivalità spesso sfociate in odio. Mai prima d'ora questo trofeo le aveva messe di fronte in finale. Insomma la preoccupazione sul piano dell'ordine pubblico è diffusa e giustificata. Gli unici due precedenti riguardano la finale del campionato argentino del 76, vinto poi dal Boca, e la Supercoppa Argentina, disputata nel marzo scorso con il trionfo dei Milionairos, allenati da Marcello Gagliardo, l'uomo della rinascita River. Un'occasione per gli sceneses di Guillermo Schelotto, allenatore moderno ed innovativo, di prendersi l'immediata rivincita. Tanti volti conosciuti nel suo Boca, su tutti quello di Carlito Steves, tornato a casa dopo l'esperienza alla Juve, quella meno esaltante nel campionato cinese. A lui tifosi del River non hanno mai perdonato il gesto della gallina che sfoderò dopo il gol vittoria nel derby del 2004. E poi l'ex laziale Maurizio Zarate e Fernando Gago meteora nel nostro campionato con la maglia della Roma. Dei precedenti in Libertadores tra le due squadre fa spicco quello di tre anni fa, quando nel ritorno alla bombonera i giocatori del River, cui poi andò la vittoria a tavolino, furono colpiti a fine primo tempo con del gas urticante spruzzato dal panadero, uno storico tifoso del Boca. Le due squadre sono giunte a questa finale in match altrettanto accesi con i rivali brasiliani. Al Boca è stato sufficiente il 2 a 2 in casa del Palmeiras dopo il successo casalingo all'andata. Risse e addirittura polizia in campo nella sfida tra il gremio di Renato Portaluppi ed il River. Decisivo il contestatissimo rigore assegnato all'ottantacinquesimo dall'arbitro Cugna e trasformato da Martinez. Ma questa sarà anche l'ultima finale della Libertadores che verrà decisa da una doppia sfida. L'andata si disputerà sabato prossimo nella leggendaria bombonera Tana del Boca, ma a decidere la sorte del torneo sarà il match di ritorno in programma monumentale il 24 novembre. Allora prima di chiudere ci ricolleghiamo in diretta con Raffaella Di Rosa che si trova in provincia di Belluno e che ci fa di nuovo il punto sulla situazione drammatica che sta vivendo questa regione in queste ore. Proprio così Adriana, drammatica lo dicevi tu. Proviamo appunto a fare il punto su quelle che sono le criticità maggiori di alcuni paesi perché c'è un isolamento che riguarda molti dei paesi. Isolamento da un punto di vista dell'energia elettrica, non arriva la luce e non riescono a arrivare neanche in molti casi i generatori perché oggi che ha piovuto devono arrivare via terra ma c'è anche un problema di viabilità perché molte delle strade sono chiuse, ci sono deviazioni. In molti paesi come quello Rocca Pietro e dove siamo stati stamattina non c'è l'acqua, è stato danneggiato da questa ondata di pioggia e vento l'acquedotto per cui è arrivata l'autobot per rifornire di acqua. In altri paesi l'acqua c'è ma il prefetto ha raccomandato l'utilizzo perché l'acqua non è potabile soltanto dopo bollitura per un utilizzo alimentare anche igienico sanitario. Dunque una situazione davvero critica, poi c'è la strage, l'abbiamo definita la strage degli alberi perché sono immagini davvero impressionanti, sono intere distese di boschi e di foreste distrutte. Il governatore Zaia ha chiesto al Premier Conte un provvedimento unico di sospensione delle imposte e delle bollette per questa fase di emergenza. Domani qui in queste valli a visitare questi luoghi colpiti dal maltempo verrà il capo della protezione civile Borrelli. Adesso lo vedete non sta piovendo, ha piovuto però per tutta la mattina e per tutta la giornata è emergenza, maltempo potrebbe piovere ancora e la pioggia in questi territori. Adesso fa davvero paura. Adriana, a te. Grazie, grazie moltissimo Raffaella. Così si conclude il nostro telegiornale. Arrivederci, a domani.